Durante le riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuta a Bari, è stato affrontato il tema della sicurezza all'indomani degli episodi accaduti giorni scorsi nei luoghi pubblici maggiormente frequentati della città, soprattutto dai più giovani come il Parco Rossani, Piazza Moro e Piazza Umberto. Nelle prossime ore il questore senior coordinerà un tavolo tecnico che stabilirà i dettagli dell'attività di controllo con una maggiore concentrazione nelle ore tardo-pomeridiane e serali, l'aumento di forze dell'ordine nei luoghi sotto osservazione, oltre all'avvio di un presidio fisso in Piazza Umberto. Si vuole rispondere in maniera ferma e corale agli episodi di violenza e i danni dei cittadini, frequentatori di quei luoghi pubblici riqualificati e messi a disposizione della cittadinanza, al fine di favorire la socializzazione ed evitare che diventino uno spazio per le aggressioni. Personalmente, da sindaco e da cittadino, ha commentato Antonio De Caro, sono mortificato per quanto accaduto nel Parco Rossani sotto gli occhi di tante persone che, a detta delle vittime della baby gang, non hanno avuto l'animo di intervenire chiedendo l'aiuto delle forze dell'ordine. Questo, credo, debba essere un ulteriore elemento di riflessione per tutti noi, ha detto De Caro. Vivere e frequentare un parco realizzato proprio per favorire l'aggregazione non significa solo usufruire di una giostra o di una panchina, ma partecipare e prendersi cura di quello spazio e della comunità che lì si incontra. I controlli delle forze dell'ordine, ha concluso De Caro, per quanto necessari non possono essere l'unica risposta all'idea di città che in questi anni abbiamo cercato di costruire. Grazie a tutti.